Allora, mister Mosconi, sono arrivati questi tre punti che la sua squadra aspettava più che mai da mezzo passo fa della settimana scorsa? Sì, bisogna dare merito ai ragazzi che abbiamo fatto un grandissimo giro di ritorno. Noi i giorni di ritorno siamo primi in classifica e abbiamo dato punti a Montegiorgio, a tutte le squadre che col Porto d'Ascoli ce la giochiamo. Però i giorni di ritorno siamo primi in classifica. Docca dare merito a questi ragazzi e ai direttori che hanno fatto una buona squadra. Adesso dobbiamo concludere l'opera, dobbiamo andare a fare una grande partita e sicuramente non faremo quelli che andiamo a fare la festa per Montegiorgio. In quattro giorni e soprattutto mercoledì prossimo ci sarà andare in casa della capolista e lì praticamente ci si gioca una stagione sia il Montegiorgio che il Tolentino. Sicuramente, però noi andiamo lì a fare i pagliacci per la festa loro. Ci andremo a giocare la partita, loro hanno fatto un grande campionato, merito a loro, però penso che sia una partita bella dove il pronostico non si sa perché noi siamo una squadra che abbiamo vinto più di tutti fuori casa e ci aggiorhiamo. È calcio, o dentro o fuori. L'importante è che è una partita corretta come oggi e poi vediamo. Sicuramente questi tre punti per noi ci hanno risollevato di morale, dopo il passo falso di Ciabbino, però c'è sta. È un percorso che andava fatto. Domenica, anzi, mercoledì sarà la partita anche belli, peccato però per Mercurio che ha avuto risentimento ieri. Sì, è un peccato perché Mercurio è un giocatore indispensabile per noi, un leader difensivo, però già che abbiamo recuperato belli va bene. Dispiace oggi, ve lo toglie qualche minuto a qualche ragazzo, però la partita era complicata, è stata una partita sporca, però tre punti importanti servivano e va bene. Alla fine non sono stati pericolosi, però è una squadra sempre sul chi va là perché davanti sono giocatori che stimo e faccio anche i complimenti all'allenatore perché tengono in vita un campionato importante per loro. Allora, mister, una partita combattuta fino all'ultimo istante, peccato quel gol che non è arrivato. Sì, penso sinceramente oggi il primo tempo la squadra non mi è piaciuta, non mi è piaciuta perché Tolentino ci ha messo sotto il primo tempo, comunque sì arrivavano prima su quasi tutte le seconde palle, ho visto un atteggiamento diverso da quello di domenica scorsa. Poi il secondo tempo, facendo qualche cambio, diciamo più che altro abbiamo cambiato un po' il modulo, siamo passati con 4-4-2, siamo riusciti ad impensierire tra virgolette un po' più il Tolentino, anche se andiamo a vedere di occasioni ne abbiamo create pochissime, barra niente. È una partita che sì, ci abbiamo avuto magari degli equilibri, siamo riusciti un attimo a contenere le folate del Tolentino che però ha fatto secondo me il risultato più che giusto perché comunque sono stati superiori, quindi ecco c'è da ammettere e c'è da dire che la vittoria del Tolentino è più che legittima.